La settimana politica si apre con un riacquirsi di polemiche tra Fini e il PDL. Non solo al Popolo della Libertà non piace il no del Presidente della Camera, la reiterabilità del Lodo Alfano, ma soprattutto il PDL non può condividere un'altra frase di Fini se ci sarà un nuovo governo non sarà il colpo di Stato. E scatta un'alzata di scudi contro questa ipotesi, con il Ministro Sandro Bondi che rilancia la questione della permanenza di Fini alla Presidenza della Camera che, spiega, rappresenta una grave anomalia perché si tratta del leader di un neopartito che vuole cambiare le priorità della maggioranza. Ma da futura libertà Briguglio replica duro e dice ai suoi dobbiamo smetterla di fare i donatori di sangue in favore di Berlusconi tanto più se il Cavaliere aspira a scudarsi puntando al Quirinale. Il clima, insomma, all'interno del centrodestra è di nuovo incandescente tant'è che nella coalizione si torna a parlare di elezioni anticipate con Bossi che dice, in polemica diretta con Fini, neanche andare subito a votare sarebbe un colpo di Stato e aggiunge, Berlusconi la prossima volta si scelga meglio gli alleati il leader dei Lombard sta dalla parte del Premier anche per quanto riguarda il lodo è giusto che si faccia. Al Senato, intanto, sullo scudo costituzionale si profila una battaglia sugli amendamenti già annunciati dal Popolo della Libertà che, come spiega Gasparri, recepiranno i rilievi di Napolitano. Infatti non solo tutte le opposizioni, compreso Casini dicono no alla reiterabilità e sì a un governo tecnico ma anche il finiano Bocchino ripete siamo contrari a ciò che potrebbe diventare un'impunità. Grazie. 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 Grazie.